Vi aspetto ragazzi, ragazze veramente. La persona è bellissima, che ha vinto Sanremo soprattutto. Il show di tonno è Laura Pons, la persona è scritta da Giannana Lini. Non è possibile, ma quanto bella sei, muoio di luce in fondo agli occhi. Perduta mente mia, così impaziente e viva, un raggio della luna caduto su di me. Perduta mente sua, chissà da quanti inverni, che Dio mi fulmini, la morte in cuore avrò. Ed era cieco il mio destino, così cieco ha quel sorriso, chi lo ha schianzato, chi tagliò la strada. C'erano segni, c'erano segnali, numeri indecisrabili, forse nascosti sotto i mari. Perduta mente mia, così impaziente e viva, un raggio della luna caduto su di me. Perduta mente tua, chissà da quanti inverni, che Dio ci fulmini, la morte in cuore avrò. Bella, 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 cerco scampo anch'io. Bello, bella, 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 nell'abbraccio mio. Perduta mente noi, chissà da quanti inverni, che Dio ci fulmini, la morte in cuore avrò. Perduta mente mia, orpio mai che viva, un raggio della luna caduto su di me. Perduta mente tua, d'amore d'inconscienza, prendimi sotto la pioggia, stringimi sotto la pioggia. La vita ti darò. Mi aspetto. Dio. Grazie a tutti.